Il sindaco, il padre Giovanni e tutti coloro che ogni anno si impegnano per la buona riuscita di questa manifestazione. Salutiamo tutti i castelletresi che ci seguono in Italia e nel mondo. Grazie e seguiteci sempre. Adesso veniamo a noi. Adesso, questo carnoale non voleva cantare, però la gente ha detto che fai, non canta, stai zitto. Ci stanno tante cose da dire. La scuola, il corso, la variante, l'impiegato, il gas, il sinico, il preos, il pallone e tante altre cose. Allora, ho pensato a lei e a cosa l'altro? E sull'elamento della gente ci è composta di un stornello allo semplice, però il stornello per scivente è una farima. E allora mi fa fare, ciò che è un voto, allora dice la verità. Bravo! Quanto sempre per l'amore nel mio paese. O i mamma, come mi dole, che ne fatti tu la scuola? E nessuno ha fatto niente, che a sta cosa che è indecente. E si posa a cui ci stanno, e gli vanno, e se ne vanno. E il suo paese a cui ci bella, lo maniamo solo e le chiaremmo. Dai, in curva nord, fatti prima! Basta che fanno i anghiati, e il paese sta bloccato. Mentre sì, ne che impiegate, il tuo comune sta andando a buscata. Se vanno in anno, un po' di sale, ma non trovavano e manca la palla. Vite qua e vite là, e la protezione civile vengono a chiamare. Usine che stanno cazzate, che le perdenti stanno malate. E si va per comandare, e nessuno si fa colare. Chi fanno male i costri, gli fanno male i rinni. Ma quando arrivano i 27, a sì, mi sono sempre i primi. Mi c'è giusto nato a botta, e bene il mio palazzotto. E di soldi da regione, c'è me fatti in un casone. A variante stangandiere, c'è me fatti un bel vedere. Ma c'è fatiglia di vassuciare i paesani agnotta una mano. Ma passa pure un gas, e tutti gli annui c'è scassa. E io usine che se sta zitta, dici che il gas è benedì. Ma vedete che da fa? Che gente lo fa dià? Se non per un lavoro tanto grosso, a noi ce l'est nessuno fosse. Un corso nuovo e bello, mettevi lì, c'è lui a mio fratello. Ma che non può che teneva l'ella, se faceva asciolarella. Il via delle campagne, se sottiene della puragna. Ma nessuna se ne fotte, chi ci passa tocca sotto. Ma nessuna se ne fotte, chi ci passa a fare, se sottiene della puragna. Stefanin, vi deco fa un paese dove sta. Che se tu sta a campo asci, ha gente tre volte a basci. Il prego sta lontano e è il fine settimana. Ma c'è tanta cosa da fa e io ce n'è se fa praticare. A gente, sicuramente, che non ha capito quasi niente. E se tu senti una bella messa, ti aspettate un'emica pressa. Grazie a tutti, chiedo scusa alle persone che ho fatto i nomi. e tutte cose ingeriscono, se no, non hanno capito anche i malicchi. Devo ripostare che cose che lo vogliono fare. Grazie mille. Grazie mille.